Ma perché si dice che il Molise non esiste? Sembrerebbe che nessuno ricordi il capoluogo della regione, ovvero Campobasso, oppure un piatto tipico come i maccheroni alla chitarra. Beh, un po' di colpa va anche alla geografia della regione, che non è famosa né per il turismo invernale né per quello estivo, e quindi il web ha preso questa regione di mira, con frasi come «Ma voi con uno del Molise ci avete mai parlato?» Ormai la voce si sparsa anche tra i turisti stranieri, che ad oggi nutrono il desiderio di visitare questa regione, proprio per accertarsi se esiste veramente, e nel giro di pochi anni questa regione è passata dall'anonimato a diventare un fenomeno nazionale. Ma per i molisani l'espressione «il Molise non esiste» non è di certo offensiva, anzi è diventato ormai lo slogan della regione, e se siete di passaggio ricordatevi di acquistare questo fantastico souvenir.